Grazie a Presidente Piero Bassetti, l'intelligenza artificiale è il tema con il quale siamo chiamati a confrontarci oggi, l'ultima puntata della rivoluzione della transizione digitale, con una portata simile, diceva il Presidente, a quel che il cambiamento di Gutenberg, cioè l'invenzione della stampa a caratteri mobili fu a suo tempo. Allora invito Margherita Fronte a confrontarsi con alcuni ospiti che lei stessa introdurrà, Margherita autrice televisiva, prego, giornalista e autrice di saggi scientifici, parlerà di intelligenza artificiale con gli ospiti che lei stessa va a introdurre. Prego Margherita. Grazie mille, è un piacere, davvero un onore essere qui per questa importante data. Conosco la fondazione da molti anni è un lavoro veramente molto interessante, molto approfondito sui temi più attuali dell'innovazione, quindi veramente grazie per avermi consentito di moderare questa parte della mattinata. Allora ci riallacciamo al discorso che appena è stato fatto proprio sull'intelligenza artificiale per dare alcuni spunti di riflessione che potrebbero poi effettivamente essere ripresi con spazi anche più ampi. Allora chiamo qui sul palco, sulle sedie, Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale e chiederei di accomodarsi anche a Nicoletta Iacobacci, membro del comitato esecutivo dell'organizzazione non profit Women's Brain Project e anche autrice di diversi saggi, ne cito un paio, l'etica è donna e exponential ethics e Guido Romeo, giornalista esperto di tecnologia e innovazione, membro del sounding board di Fondazione Giannino Bassetti. Cominciamo da Stefano Epifani prendendo spunto da una notizia molto recente che è l'approvazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, quindi diciamo un tentativo dell'Europa di normare questo campo che si va sviluppando. Lascio la parola a lui. Grazie mille, grazie per questo invito e grazie per questa domanda che in realtà è una domanda complessa perché intanto è lungi dall'essere approvato, è uscito dal trilogo, insomma ancora manca un po' di tempo, ancora manca qualche passaggio perché l'Europa possa davvero dire di avere un regolamento, una legge sull'intelligenza artificiale, ma il problema centrale non è tanto il fatto che l'Europa abbia o non abbia una legge sull'intelligenza artificiale, ma che tipo di legge l'Europa decida di avere sull'intelligenza artificiale. In un contesto un po' particolare perché effettivamente siamo stati i primi a muoverci per costruire un framework normativo su un tema centrale come questo, tuttavia siamo tra gli ultimi invece ad avere un'azione concreta su questi temi. Peraltro a me questa cosa ricorda un po', stavo guardando prima nello smartphone per ricordarmi la data, ricorda un po' quello che abbiamo fatto con l'economia della conoscenza perché col piano di Lisbona noi decidemmo di essere, ricordo questa fantomatica dichiarazione, l'Europa sarà entro 2010 il paese con l'economia della conoscenza più avanzata al mondo. Il 2010 è passato, abbiamo normato tutto quello che potevamo normale, ma di questa primazia sull'economia della conoscenza non c'è traccia, tanto che le ricerche oggi ci dicono che l'Europa invece è agli ultimi posti al mondo quanto a capacità di sfruttare i vantaggi e il valore dell'economia della conoscenza. Questo per dire cosa? È importante normare, ma è ancora più importante decidere la direzione della normazione. Lo abbiamo visto con la privacy, lo stiamo vedendo con l'intelligenza artificiale, l'Europa ha una lunga tradizione di azioni normative collegate all'innovazione nella quale giochiamo culturalmente in difesa. Cosa vuol dire che giochiamo in difesa? Vuol dire che mentre gli Stati Uniti fanno una legge esecutiva per investire sull'intelligenza artificiale, mentre la Cina sta lavorando da tempo sugli investimenti per l'intelligenza artificiale noi normiamo. Il che va bene. Se non fosse che normiamo qualcosa che non gestiamo, se non fosse che normiamo qualcosa che non governiamo, se non fosse che normiamo qualcosa che non conosciamo, se non fosse che normiamo qualcosa in cui non avendola, non conoscendola e non gestendola finiamo per averne paura e finiamo per normare dettati dalla paura. E seppure alcuni elementi di questo modello normativo, che per chi non lo ha seguito si basa più o meno sulla stessa dinamica di quello invece importantissimo sulla privacy, cioè sul coefficiente di rischio, ecco questo coefficiente di rischio rischia di diventare un po' un controsenso in un contesto in cui si sta normando qualcosa che nel momento in cui sarà esecutiva la normativa che vedrà luce tra qualche mese, saranno attivi i regolamenti attuativi nei diversi Stati, sarà totalmente cambiato rispetto a quando lo abbiamo normato. Cosa voglio dire? Voglio dire che oggi la sfida per la normazione dell'intelligenza artificiale è una sfida che deve guardare al difficilissimo rapporto tra ciò che vogliamo e ciò che temiamo e il problema è che la sfida dell'intelligenza artificiale in questo bilanciamento tra ciò che vogliamo e ciò che temiamo deve in qualche modo guardare a qualcosa che in Europa, malgrado il fatto che sia il primo contesto al mondo a normare l'intelligenza artificiale, manca del tutto, che è una visione sull'intelligenza artificiale, perché se noi normiamo qualcosa dalla quale non abbiamo visione saremo sempre figli di altri, saremo sempre utenti o utonti, a seconda di come vogliamo definirli, di applicazioni, tecnologie, strumenti che ci vedranno appunto clienti in un contesto in cui la pervasività dell'interazione, la pervasività della capacità di leggere le nostre informazioni diventa un elemento centrale. Questo e arrivo alla conclusione. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi rispetto all'innovazione abbiamo sempre un approccio che è quello di ergere dei muri, ma l'innovazione è un po' come una slavina, perché è vero come si diceva prima che l'innovazione deve essere antropocentrica, non deve essere tecnocentrica, tuttavia non esiste innovazione non esiste innovazione che nell'obiettivo di essere antropocentrica sia basata su un layer tecnologico, su una dimensione tecnologica. Capire come gestire questo rapporto tra base e centro diventa il nucleo dell'innovazione e gestire questo tipo di modelli di normazione è particolarmente complesso perché dobbiamo bilanciare l'esigenza di regolare qualcosa nella difesa delle minoranze con la necessità di regolare qualcosa nel supporto a chi invece deve correre, perché sarà chi corre a difendere le minoranze. Noi invece rischiamo di tagliare gli estremi, perché per difendere le minoranze non valorizziamo un sistema che non correrà e quindi anche le minoranze rimarranno in difese. Ecco, in questo contesto, dal nostro punto di vista, è una fondazione che si chiama Fondazione per la Sostenibilità Digitale, la sostenibilità è un criterio. È un criterio che è meno scivoloso del criterio dell'etica. Perché dico meno scivoloso? Perché oggi si parla tanto di etica e dell'intelligenza artificiale, ma io sono sempre un po' spaventato quando parliamo di etica e lo rapportiamo a un tema che ha due caratteristiche, quello di dover guardare sul lunghissimo termine e quello di dover essere globale. L'etica, ahimè, cambia nel tempo, esistono i diritti fondamentali ma l'etica cambia nel tempo. Rispetto alla globalità dell'etica ci sono contesti nei quali è etico far smettere di studiare le ragazze a 12 anni, oggi. Quindi parlare di etica e dell'intelligenza artificiale mi appassiona poco. Mi interessa di più parlare di sostenibilità. Perché di sostenibilità? Perché la sostenibilità ha poco a che fare con l'etica, paradossalmente molto con la sistemica. La sostenibilità è una funzione di sistema e l'intelligenza artificiale è un sistema complesso. Il nostro problema è che confondiamo i sistemi complessi con i sistemi complicati e invece di cercare soluzioni semplici identifichiamo soluzioni semplicistiche. Questo sembra un gioco di parole ma è il nocciolo del problema che nei prossimi anni dovremmo gestire. Acquisire quella visione che è una visione culturale, è una visione sociale perché la sostenibilità è una questione sociale. Non è come oggi ci stiamo convincendo una questione prevalentemente ambientale. È una questione antropocentrica anche la sostenibilità. Ha una visione fortemente sociale che si basa ovviamente sul rispetto dell'ambiente perché l'ambiente è il latore delle risorse sulle quali la società si sviluppa. Ma attenzione, noi dobbiamo avere una visione sociale e questo vuol dire avere una visione politica. E oggi la nostra politica non ha una visione politica dell'intelligenza artificiale. Perché non ce l'ha? Perché tanto per darvi un'idea il volume complessivo di investimenti su questo tema è di qualcosa come un fattore 1 a 100 rispetto a quello che stanno avendo in Francia, rispetto a quello che stanno avendo in Germania. L'Europa ha un fattore di investimento che è 1 a 100 rispetto a quello che sta rapportato alla dimensione delle economie, rispetto a quello che stanno avendo nel resto del mondo. Quindi ragazzi, signori, sveglia. Dobbiamo acquisire una visione industriale e sociale, scegliete poi l'ordine, tanto queste cose in un'industria sostenibile sono correlate, dell'intelligenza artificiale. Soltanto dopo aver capito che l'intelligenza artificiale sarà un problema soltanto per chi la teme e per chi non la conosce, capiremo come definire i criteri normativi che ci consentiranno di gestirla. Sarà un problema complessissimo perché l'intelligenza artificiale entra in tutte le cose e le ridefinisce, le ridisegna, le ristruttura, le riarticola. Il problema è che stiamo di fronte a una rivoluzione di senso e la nostra legge oggi guarda al come, mentre l'intelligenza artificiale deve guardare al cosa, al cosa abbia senso fare, al come abbia senso gestirlo, questo nuovo fare. Non ci sarà altro che questo, la necessità di comprendere qual sarà la direzione industriale e sociale che vogliamo dare alla nostra società. L'intelligenza artificiale è alla base di questo cambiamento e sarà la base della nuova società. Grazie, grazie Stefano Epifani. Questo intervento getta veramente una luce sulla complessità del compito che ci si trova davanti. Cioè è un nuovo modo di conoscere e di fare che si affaccia di fronte al quale possiamo fare delle ipotesi, non sappiamo esattamente dove andrà. Quindi effettivamente il compito di chi deve normare questa materia è estremamente difficile e complesso e richiede anche una capacità di guardare al futuro che forse per tanti aspetti manca. Proprio per guardare al futuro ascoltiamo adesso Nicoletta Iacobacci che proprio ci fa una visione su che cosa potrebbe accadere, ci proietta nel futuro e nel futuro delle nuove generazioni alle prese con questi nuovi strumenti. Grazie, grazie e buongiorno a tutti. Dunque nel contesto di un nuovo noi nel discorso del presidente io vorrei iniziare con una storia personale. Dunque un giorno durante una cena mio figlio appena tornato dal primo anno di università mi rivela di essersi iscritto al progetto 2024. Io non ne so nulla, resto impassibile, poi a casa scopro di che cosa si tratta. È un'ambiziosa iniziativa per colonizzare Marte e cercavano dei volontari. E io mi chiedo come comunicherò con lui? Che impatto avrà su di noi, sulla nostra relazione? E poi penso, ma io sono una mamma del ventunesimo secolo e mi interrogo su come comunicherò con mio figlio su Marte. Cosa vuol dire la fantascienza oggi? Ecco che quindi io studio le nuove generazioni e non solo, io studio l'impatto profondo che la tecnologia avrà sulle nuove generazioni. Quello che cerco è di definire come un'umanità e tecnologia possano navigare insieme in questo nuovo paesaggio digitale e interplanetario. A questo proposito io vorrei proporvi un confronto. È un po' cinico, però secondo me rende bene l'idea. Allora, immaginiamo l'evoluzione umana come se fosse la creazione di un software. Avete mai creato un software? Creare un software richiede quattro fasi specifiche. Chiaramente la prima è l'idea, che è la fase in cui viene concepito il concetto del software. È un momento di grande creatività, di innovazione, dove si identifica un problema da risolvere o un bisogno da soddisfare. Poi abbiamo la fase alfa. In questa fase il software è in uno stato embrionale, viene creato un prototipo funzionante che può essere utilizzato per valutare l'idea e identificare ovviamente idee di miglioramento. Non è ancora pronto per il grande pubblico. Poi viene la fase beta. A questo punto il software è più sviluppato e viene rilasciato a un gruppo limitato di utenti per il testing. Questa fase è cruciale per raccogliere feedback e per correggere eventuali errori prima del rilascio ufficiale. E poi ovviamente c'è il rilascio del software. Dopo che il software è stato testato e perfezionato, viene rilasciato al pubblico. Dunque, applichiamo questo modello all'evoluzione umana. L'idea. Quindi partiamo dalla generazione Z. 1997-2012, che io considero i rivoluzionari digitali. Quando parliamo della generazione Z come l'idea del processo di sviluppo del software, ovviamente stiamo descrivendo il loro ruolo di pionieri in un mondo in rapido cambiamento. Come molti della sua generazione, abbiamo per esempio Greta, che ha utilizzato le piattaforme digitali per amplificare il suo messaggio, trasformando i social media da spazi di condivisione personale in potenti strumenti per il cambiamento globale. La sua capacità di influenzare un vasto pubblico e di ispirare movimenti internazionali dimostra come la generazione Z stia utilizzando la tecnologia per affrontare sfide su scala mondiale e portare avanti una rivoluzione silenziosa. Quindi l'idea. A seguire abbiamo la generazione Alfa, 2013-2025, che io definisco gli esploratori dell'iperconnessione. Questa generazione, la fase Alfa del software è simile al loro ingresso nel mondo digitale. Nascono con lo smartphone, non sanno cosa vuol dire la vita senza internet e sperimentano con tecnologie come la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, eccetera, senza aiuti o manuali. Ad esempio molti bambini Alfa utilizzano già assistenti vocali per apprendere o giocare, mostrando una familiarità precoce e naturale con la tecnologia che per noi, diciamo la verità, è quasi magica. Però dobbiamo anche considerare che la fase Alfa è un grande momento di vulnerabilità. Perché? Pensando a noi stessi come gli sviluppatori di questo software umano, dobbiamo riflettere su cosa? Sui bug del software, sugli errori, sulle imperfezioni di questo sistema. In termini informatici, che cos'è un bug? È un difetto nel software che causa malfunzionamenti o risultati non previsti. Traslando questo concetto alla generazione Alfa, i bug potrebbero rappresentare le sfide sociali, le sfide etiche, educative, che questa generazione deve affrontare in un mondo sempre più tecnologico. Quindi come possiamo identificare e risolvere questi errori per assicurare che la generazione Alfa cresca in un ambiente sano e positivo? Poi abbiamo la fase beta, che io definisco gli eroi dell'integrazione. Cioè noi ci stiamo avvicinando all'alba di una nuova era con la nascita della generazione beta, 2026-2040. Sembra fantascienza, ma non lo è. È fra tre anni. Cioè sono i figli di mio figlio, quello che voleva andare su Marte. La generazione beta rappresenta la fase beta del nostro software umano, dove le tecnologie e le idee testate dalle vecchie generazioni o delle generazioni precedenti vengono integrate nella vita quotidiana. Immaginiamo bambini che utilizzano l'intelligenza artificiale non solo per giocare o apprendere, ma come parte integrante del loro sviluppo sociale ed emotivo, imparando e interagendo in modi che noi oggi possiamo solo immaginare, non abbiamo un'idea, probabilmente immaginiamo in maniera sbagliata. Questi bambini nasceranno in un mondo dove le tecnologie, che oggi consideriamo all'avanguardia, saranno diventate la norma, tanto integrate nella vita quotidiana da essere paragonabili a mangiare, camminare, respirare. E come sarà il mondo in cui la tecnologia diventerà una parte così fondamentale dell'esistenza della generazione beta da essere considerata un aspetto intrinseco della loro identità e della loro vita quotidiana? Chiediamocelo. Infine abbiamo il rilascio del software, del nuovo umano. Lasciatemi lanciare una provocazione. Sul futuro, il 2040, l'inizio della generazione gamma, i cyborg cosmopoliti. Allora, intanto generazione beta e generazione gamma non esistono ancora nel lessico normale. Li ho definiti io così perché sto scrivendo un nuovo libro e li sto studiando. Chissà, da oggi forse li chiameremo beta e gamma. Lo lanciamo qua, questo discorso. Comunque, per i gamma immaginate un mondo dove la tecnologia non è solo a portata di mano, ma è fusa con il nostro stesso essere. Noi potremmo diventare cyborg. E che vuol dire non solo più umani, ma qualcosa di più. E guardate, questa non è fantascienza, ma una prospettiva reale che ci sfida a ripensare radicalmente la nostra esistenza. Che ne sarà della nostra identità, identità umana, quando la linea tra naturale e artificiale non sarà più definita? La storia non è scritta, sta a noi qui e ora iniziare a tracciarne i contorni per le generazioni future. E comunque, io sono una mamma italiana, anche se residente all'estero, e quindi andare su Marte non se ne parla proprio. Grazie. Grazie mille, anche un figlio che vuole andare su Marte. Vedremo cosa farà. Torniamo però al presente. Torniamo al presente perché per definire che cosa accadrà poi nel futuro e come si svilupperà poi effettivamente questa tecnologia di qui, ai prossimi anni, alle generazioni alfa, beta, gamma. Un punto fondamentale, un po' è l'elefante nella stanza, è dove sono i soldi? Cioè chi sta finanziando e cosa sta finanziando? Allora abbiamo chiesto a Guido Romeo di darci un quadro, seppure conciso, su questo aspetto importantissimo. Grazie. Grazie Margherita. Io vedo delle slide nel nostro gobo. Ah eccole qua. Mi sono fatto aiutare, essendo giornalista è una delle forme di intelligenza più limitate, insomma esclusi i presenti, ho detto bisogno di un po' di dati. E qui insomma riprendendo quello che diceva Stefano, antropocentrico, qui chiaramente si vede che questi sono i dati dello Stanford AI AI Index Report che esce tutti gli anni, da un po' di anni ed è molto interessante da guardare. Stefano diceva antropocentrica o tecnocentrica, in realtà io direi è soldocentrica, insomma è dollarocentrica, anzi dollarocentrica. Allora il massimo è basato su tre parametri per capirci, questo è un indice sintetico l'AI Index, i tre parametri sono implementazione, innovazione e investimento. I Stati Uniti guidano la corsa e di gran lunga, sono lassù e fanno 100 punti su 100, quindi di fatto stabiliscono la metrica. Se posso avere la prossima, vediamo dov'è la Cina che è in testa all'Asia e insomma il primo pallotto blu dell'Asia e per darvi una scala è a 62 punti. Ora poi arriviamo all'Europa, ma non si capisce, la cosa più interessante è come sono fatti questi punteggi e come sono cambiati, perché gli Stati Uniti guidano soprattutto su implementazione e investimento è quello che tira, e basta leggere i giornali insomma per capirlo, ma quello che tira la volata americana è la parte dell'AI commerciale. Tutta l'epica, se avete seguito tutta la dynasty, la telenovela OpenAI, si vede molto bene che questa società, questa non profit, tra virgolette, è estremamente profit, perché se devi fare sistemi di intelligenza artificiale hai bisogno di un sacco di soldi. Il problema di OpenAI è nata con grandi dichiarazioni di buono volontà, in realtà poi era fundraising per sviluppare i propri modelli. Per darvi un ordine di grandezza, Stefano correggimi se dico bestialità, ma chat GPT2 che è uscito nel 2019, mi sembra che avesse 1,5 miliardi di parametri e per fare un training ci volevano qualcosa come 50 mila dollari, è per storia. Palm 2 che è uscito l'anno scorso ha 360 milioni di parametri e ci vogliono 8 milioni di dollari per fargli un training e questo era l'anno scorso, quindi voi capite che è esponenziale questa corsa e quindi Silicon Valley, Musk, gli uomini più ricchi del mondo, li possono tirare la volata. Ora è interessante vedere che la Cina, che ancora non mi state facendo vedere, ma eccola lì, in realtà accorcia le distanze perché aumentano gli investimenti, sono investimenti diversi, molto più guidati dal governo, quindi diciamo ci sono dinamiche molto diverse, ma quello che a me ha colpito della Cina guardando i dati è che negli anni scorsi era ancora indietro come ricerca scientifica, come paper, pubblicazioni e invece sta accorciando le distanze con gli Stati Uniti, questo si vede anche nel fatto che gli Stati Uniti avevano tantissime collaborazioni negli anni scorsi con la Cina, le hanno moltiplicate e quest'anno per la prima volta le hanno diminuite e invece le stanno aumentando con i paesi europei, perché qui c'è una geopolitica dell'AI, di cui è importante tenere conto. Veniamo all'Europa, che è la prossima slide, e veniamo all'Italia, noi siamo a 27 punti, quindi quando Stefano suona la sveglia ricordiamoci che noi siamo a meno di un terzo degli Stati Uniti, a meno della metà della Cina. Il leader in Europa, anzi non è più neanche in Europa, è la UK, l'Inghilterra, che ha partorito tra gli altri DeepMind, abbiamo visto varie cose, ma che ha anche un polo finanziario molto dinamico e quindi riesce a inseguire gli Stati Uniti. Infatti c'è un colloquio molto intenso, ci sono molte azioni bilaterali tra gli Stati Uniti e Gran Bretagna, però ripeto, gli Stati Uniti sono i privati che guidano l'AI, lo sviluppo dell'AI, quindi è qualcosa che è difficile dire, andiamo a normarlo, soprattutto in un panorama come gli Stati Uniti, poi se volete un giorno parliamo di Musk, ma lì si potrebbe parlare delle ore, perché c'è un bellissimo pezzo di un po' di tempo fa, del New York Times, dove diceva ma chi è Musk, perché dice sì è un imprenditore digitale, no, è uno che decide se do la connettività satellitare all'Ucraina, che quando Biden dice faccio la rete di connessione per le auto elettriche parlo con Tesla, è uno che parla al telefono con Putin, quindi voglio dire, gli statosauri assolutamente sì, voglio dire, dobbiamo guardare a queste nuove creature, a questa nuova evoluzione per capire dove va. Chiudo su una cosa, quel 27 dell'Italia deve suonare il campanello, però potrebbe essere anche se interpretato un'opportunità, perché in realtà in questa lotta tra Asia e Stati Uniti, tra Occidente e Oriente, tra diverse potenze, poi vedremo l'anno prossimo cosa succede con le elezioni americane, ma forse proprio l'Italia che è in Europa, che è ancora il mercato più grande del mondo, quindi non dimentichiamo, noi siamo uno dei mercati più ricchi, quindi abbiamo qualcosa da dire, se l'Italia si gioca in chiave sistemiche potrebbe anche giocare alla carta del paese, del luogo super partes, perché non ha, come dicono gli americani, skin in the game, non ha un vested interest, perché non ha industrie lì. Poi mi darete dell'ingenuo, ma sono la forma più limitata di intelligenza, ci proviamo. Grazie. Noi chiudiamo qui questa parte con questi spunti che ci hanno dato i nostri relatori, immagino che molti di questi potranno poi essere ripresi nel lavoro successivo della Fondazione Bassetti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.